Senta, lei in un'intervista ha detto, quanto parli, io la seguo ovviamente, ho detto anche dei libri che parlano di lei, in un'intervista ha detto, ha parlato di Berlusconi dicendo ma non è esattamente il mio filone politico, conferma? Dunque, intanto questa è un'intervista fatta, se non mi sbaglio, almeno sette anni fa, sei Scusi se l'intervista, Berlusconi non è il mio filone politico, per questo glielo chiedo E devo dire che proprio io ho incontrato proprio lui e glielo ho anche detto, ho detto io non l'ho votata e non l'avevo votato, poi devo dire che c'è stata quella parentesi tra lui e lui, esatto, in mezzo che è stata talmente disastrosa che uno non sa più cosa augurarsi e quindi Ma non ha votato, vero, nel 2008? No, no, ha votato Ci vuol dire che io preferisci di no? In forte segreto No, certo, lo rispetto, la sua cosa, ci puoi dire, è un po' in modo subdolo, ci puoi dire se hai cambiato idea dalla sua dichiarazione? Io ho cambiato idea, sì, ho cambiato idea nel senso che capisco che un paese deve essere in mano comunque a delle persone Con continuità Oltre che con continuità che abbiano non solo delle teorie ma che abbiano anche delle pratiche Forse è sicuramente più adatto un Tremonti, quindi non è tanto Berlusconi Il colore politico non ha... Però a me il colore politico non interessa più, onestamente non posso più pensare... Però lei era di sinistra? Perché non va bene, perché se uno non è capace di trovare un indirizzo, è tutto in teoria, è tutto così molle Allora io penso che ci sia bisogno di gente che sappia almeno tecnicamente dirigere un paese Però lei ha molto... lei è quasi più... lei è una figura importantissima anche all'estero Se la chiamano e dicono, scusi se insisto, dammi una mano a fare il ministero della moda Lei non può assottrarsi Ma il ministero della moda, ci manca anche il ministero della moda Lei dice non è necessario Non abbiamo bisogno di un ministero No, avremo bisogno di tante altre cose Cioè di una sensibilità, perché poi ad esempio io ho votato sempre il centrosinistra Il centrosinistra non ha mai capito l'enorme potenziale strutturale della moda Cioè non hanno mai colto quello che siete voi Anche perché la moda è sempre vista come qualcosa di effimere e superficiale La moda è la seconda voce del bilancio nazionale Quindi non è proprio l'ultima cosa che arriva in Italia Però non è mai considerato quel lato lì Per cui è sempre la cosa più sfilata, glamour, modelle Superficialità Superficialità Non Prodi l'ha mai chiamata, Flavia Prodi No, ride No, scusi, io glielo devo chiedere perché Tra l'altro il mondo della moda come il mondo della pubblicità Posso dire è un mondo molto libertario Cioè per certi aspetti ognuno ha le sue idee, c'è chi è più vicino Però non è certamente un mondo bacchettone Perché è un mondo che crea il gusto, che crea la novità, che ama la novità Quindi potenzialmente, se mi posso per me dica se condivide Potenzialmente un centro-sinistra avanzato Lì potrebbe attingere a pieni mani Perché è tutta gente che ama le novità Ripeto, secondo me non è più una questione di colore È una questione di persone E questo oggi è quello di cui noi abbiamo bisogno Ci auguriamo che le persone siano quelle giuste Senta, e sul TG4 anche ha cambiato idea? Su Fede? Sì Anche su lui, no Certo, quella era un'unica intervista però Sempre la stessa No, ne ho diverse qua Malpensa era la stampa Qui siamo a... la stampa era Malpensa La stampa era Malpensa Invece qui siamo al Corriere Magazine Prima ancora eravamo in prima comunicazione Allora, ho cambiato idea Beh, lei ha detto che non vorrei mai essere adulata così No, ecco, quello lo ripeto ancora adesso Io questo trovo che l'adulazione non fa bene Né a chi la riceve né a chi la fa E diffido sempre quando ho delle persone vicine Che continuano a dirmi che sono brava, brava, brava Perché capisco che da qualche parte sbaglio E dato che noi, chi deve comunque condurre un qualche cosa È il primo a capire quando sbaglia Non vieni supportato giustamente dalle persone Solo perché ti dicono che sei brava Non è quello il punto Una buona critica aiuta Certo, che se hai una televisione È difficile anche che uno dica Oggi il nostro presidente si è comportato malissimo Ha detto un sacco di cose che non vanno bene È ovvio che poi è allineata la rete Quindi è allineato anche lui Certo Lei su Milano, lei però non risparmia osservazioni costruttive Per esempio sulla nostra mancanza di un grande museo d'arte Qui siamo in un'altra intervista ancora Un'altra dichiarazione ancora La sensibilità Sono un lamento unico Come? Sono un lamento unico No, no, vabbè Ma è ovvio che la chiamano I giornalisti un po' anche per Certo, certo Hanno bisogno, se mi posso permettere Una persona autorevole Metto anche nei panni dei colleghi Per sollevare i problemi che ci attanagliano L'hanno fatto anche perché lei su moda e arte ha investito Quindi non è che l'hanno fatto così Lei su moda e arte ha investito e ha detto Dobbiamo avere un grande museo Manca una grande istituzione A Milano mancano i musei Non abbiamo musei Ma questo non si può di nuovo imputare All'Amoratti oggi piuttosto che a Bernusconi Cioè questa è una cosa atavica che ormai risale Ma qual è la città che non ha un museo di arte contemporanea Che non ha dei musei dove succede qualche cosa Quindi non abbiamo proprio gli spazi Perché manca quello Quindi automaticamente anche le gallerie d'arte Se avessero Torino è stata una città che si è mossa molto meglio di Milano Perché tra il museo di Rivoli Tra le gallerie Con tutto quello che comunque cercano di fare Hanno fatto molto di più che non a Milano Esatto Torino-Chiamparino Quindi come dice lei Non c'è colore politico Non c'è colore Non c'è colore Non importa Perché tra quello che hanno fatto per le Olimpiadi Come hanno ristrutturato la città Così come adesso hanno sistemato la parte dell'arte E molto più interessante di quello che succede a Milano E' contenta dell'alleanza Fiat-Chrysler Cioè che Obama abbia citato la Fiat Per noi è un bel Trovo meraviglioso È incredibile Trovo Per noi è un Ecco queste sono delle cose per l'immagine di un paese Obama ma chi ci avrebbe creduto No ma poi con quelle enfasi Con quelle enfasi Gli italiani che vanno a insegnare agli americani condivide No l'ho trovata meravigliosa Marchione lo vorrebbe conoscere? Lo conosco So che lei è amica di Lapo Un po' di ghiacchi eccetera Però insomma è uno che ci ha dato una grossa mano Enorme Enorme Ce ne fossero anche Senta il suo amico Paolo Miele è stato mandato via L'hai spiaciuto? Viene del Perugio che è bravissimo Che conosco molto bene Bene anche lui Cosa pensa di questo avvicendamento? Se succedesse a lui Non è un avvicendamento nuovissimo Perché c'era già stato E poi c'era già stato C'era già stato Perché quando era andato via De Bortoli Era arrivato Miele Quando era andato via Miele Cioè quindi non è una cosa nuovissima Cosa ne penso? Conosco meglio De Bortoli Onestamente di quanto io non conosco Paolo Miele Sicuramente li stimo tutti a due Tutti e due Ottimi professionisti Grazie